buongiorno benvenuti questa è la segna stampa di oggi sabato oggi me la sono un po' presa e con eh carma Simone che dice buongiorno Nicola vediamo cosa dice nonostante Sardegna ci aspetti un'altra settimana di zona bianca guardo con orrore a quello che accade nel continente dove la follia e l'isteria e l'iberticide vanno avanti dice Simone vediamo qua cosa dice eh eh moon moon ciao Nicola dalla zona bianca e real caldo un color panna più che bianco comunque le limitazioni sono di chi le sente mentalmente io qui ho sempre continuato la mia vita anche in zona rossa dice moon moon e poi stanno arrivando tutti quelli eh i saluti della giornata un saluto da Barletta Angelo un grande saluto anche a te e amici di Barletta e dove c'ha sede legale la tenuta Rasciatana quindi insomma sempre attenzione alla nostra sede legale buongiorno anche a te buongiorno Francesco Fontanelli e buongiorno a Marianna Mariani eh vediamo chi c'è qua buongiorno un anno andrà tutto bene invece c'è ragione Paolo qualcuno se lo ricorda di quelle minchiate che dicevano ma che all'epoca già si capiva che erano minchiate perché noi stessi li prendevamo in giro cioè se voi andate a vedere le nostre zuppe che ci raccontavamo molti di noi capivano che quello andare tutto bene chiusi a casa non ci piaceva per niente già all'epoca cassa integrazione chi l'ha vista Mauro è un altro dei temi chiave di questo anno finalmente in diretta Roberto qualche qualche volta capita calcolate che adesso la diretta la potete vedere dal mio sito perché c'è la notifica se accettate le notifiche Facebook sta facendo un po' di casino YouTube potete mettervi la notifica e poi c'è il canale Telegram che è comodissimo perché se voi vi iscrivete al nostro canale Telegram ci sono già eh grazie a Marco Baronti ci sono almeno diecimila persone che si sono scritte lo ringrazio al nostro canale Telegram beh lì ci sono tutte le notifiche se avete Telegram in maniera da avere le dirette Massimo ricorda ciao Nicola ma come è possibile che siamo in zona rossa domenedì in Friuli Venezia Giulia le scuole private hanno dato comunicazione di una scuola chiusa beh insomma questo proprio non funziona direi eh e poi sì eh esatto scrittissima buongiorno François un po' che non ci vediamo beh insomma adesso iniziamo subito questa rassegna perché poi eh le notizie da dire sono fondamentalmente poche ma sempre le solite questo è il dramma intanto l'Italia chiude il tema di tutti quanti i giornali dieci regioni in rosso e otto in arancione ehm direi che oggi bisogna leggere i giornali della opposizione c'è un'intervista dalla Morgese oggi sulla stampa non è un giornale della opposizione gli stampisti li conoscete bene sono quelli che mettono più paura di tutti più paura in assoluto più forse dei cronisti del Corriere della Sera gli stampisti sono il eh diciamo il prototipo del giornale unico del virus questo terzo lockdown come dice Rossella sto andando in depressione con Pirolianne ancora in lockdown tre bene insomma ehm non vi sto a dire nei giornali c'è scritto quello che succede nei giornali c'è praticamente scritto tutto quindi il giornale stesso voglio dire mi sembra che abbia sposato la linea ma l'aveva sposata anche prima del lockdown io quello che dico è quello che ho sempre detto servono questi lockdown sono serviti questi lockdown allora sul servono uno può dire all'inizio potrebbe dire beh forse sì poi coi risultati che abbiamo visto mi sembra che non servano e l'ipotesi che senza lockdown sarebbe andata molto peggio è come un'ipotesi che sarebbe andata bene andrà tutto bene con il lockdown cioè le due ipotesi sono uguali identiche dal punto di vista scientifico non c'è nessuno che possa dire che le cose vadano peggio senza lockdown per il semplice motivo banale che ci sono alcuni studi Sanford University uno tra questi che dice che i lockdown sono serviti molto poco il fatto che in molti lo facciano il fatto che molti diventano nazisti che molti diventano comunisti sto parlando dell'Europa degli anni venti non del 2020 del 1920 non toglie che quello fosse stato un errore colossale un sonno della storia secondo alcuni in realtà un errore colossale come quello che stiamo commettendo oggi peraltro eh liberticita i paesi che ehm ce l'hanno fatta ehm eh non hanno chiuso eh il titolo circostanziato che riguarda la Svezia l'Indonesia vale altri paesi raccontati oggi da libero il conte Draghi chiude l'Italia è il titolo in cui vengono messe in con questa locuzione Conto Draghi insieme le due attività governative perché lo sapete come si pensa qua nella zuppa meglio Draghi di Conte ma tutto quel corpo centrale di Speranza del suo segretario generale dei suoi uomini eh del del suo Ricciardi del CTS non è cambiato è sempre quella roba là che ha sempre una soluzione e vi ripeto la soluzione non può che essere il lockdown perché questi se no dovrebbero smentire uno un anno di attività di perticide e di crisi economiche di un milione di poveri in più che hanno creato ieri i dati di quattrocentocinquantamila disoccupati in più insomma sono passati cioè questo è il paese in quest'ora in cui si drammatizza sempre il la questione sanitaria e invece la questione economica si tratta così la questione psicologica si tratta così milioni di italiani giovani che fino a prova contraria anche a quindici sedici anni sia italiani o diciassettenni che sono chiusi in casa sulla data ce ne fottiamo avendogli il loro rubato due anni la loro socialità le loro vite però quando quelli vanno in giro è movida selvaggia quando vanno a scuola sembra una cosa sbagliata in realtà siamo paese che meno di tutti i paesi europei andrà a scuola e la soluzione sarà molto semplice che invece degli scappati di casa avremo una classe dirigente di rincoglioniti tra l'altro impauriti se così formiamo i nostri i giovani ma questa roba qua la possiamo dire relativamente io sulla posizione del lockdown possono anche metterci il il più bravo dei presidenti del consiglio ma se continuo a pensare che la soluzione chiudere tutto e chiuderanno tutto è peggio di prima me troverete nella zuppa di porro sempre qualcuno contrario la verità dice che in realtà ora è passato è cambiata una cosa se passati dal dpcm al decreto meglio lo dico subito meglio non è una questione di sostanza è una questione di forma il decreto può essere discusso in parlamento voglio vedere il 90 per cento del parlamento che voterà il decreto ovviamente voterà il decreto posto che poi i divieti partono da lunedì i decreti legge funzionano così è la loro regola ma è una regola costituzionale democratica per la quale sono ben contento che si sia adottato uno strumento diverso rispetto a quello orribile del dpcm un'altra domanda che mi faccio e vi faccio coprifuoco chiusura dei negozi morte civile degli studenti dei ragazzi e e drammi psicologici ma io vi chiedo toc toc un'emergenza si può definire tale se è un anno che dura no io me lo chiedo ma ve lo voglio chiedere cioè da un punto di vista tecnico questi che parlano e che raccontano questa cosa un'emergenza se dura un anno vuol dire che non è più un'emergenza o vuol dire che se siamo ancora in emergenza dopo un anno vuol dire che qualcuno questa roba non l'ha gestita bene anche perché poi vai su Wall Street Journal di oggi e vedi le foto dei vaccinati americani che hanno avuto un'emergenza perché è arrivata dopo sono morte in percentuale le stesse persone che sono morte da noi perché voi paragonate 350 milioni di abitanti 300 milioni di abitanti con l'italia un bel ragionamento in termini assoluti se poi vedete le percentuali di morti su popolazione sono morti più gli italiani purtroppo che gli americani e comunque gli americani sono andati in lockdown più tardi hanno avuto non più morti di noi altra minchiata che continuiamo a raccontare Wall Street Journal di oggi ci dice che hanno fatto 100 milioni di dosi di vaccino nel frattempo alcuni paesi in america non hanno mai chiuso e anche quelli che hanno chiuso stanno riaprendo complimenti alla grandissima gestione del virus no Marco Travaglio e compagnia cantante che ha fatto quel governo là perché obiettivamente l'eredità di oggi cioè se da una parte la soluzione di oggi è uguale a quella di ieri ed è sbagliata da un'altra parte l'eredità che abbiamo oggi è un'eredità che deriva da un anno di incompetenti e scappati di casa che hanno raccontato che il tutto sarebbe andato bene e che loro stavano facendo i piani vaccinali con le primule con le società interinali per trovare medici infermieri che non sono stati trovati con gli appalti a cavolo di cane per cui alcune volte erano per le mascherine con 70 milioni di intermediazioni altre volte invece erano appalti lunghissimi che arriveranno a soluzione a babbo morto e Draghi ieri parla sui vaccini non è che dice particolarmente cose interessanti giustamente Bruno Vespa oggi sul quotidiano nazionale ci dice che le due cose fondamentali che ha detto è non solo che ci saranno mi sembra farà 500 mila vaccini al giorno vediamo quando arriveranno e quando saremo in grado e se saremo in grado di fare 500 mila ma poi l'altra questione bene aspetta 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 che qua è arrivato Armando ho finito la quarantena in Thailandia seguendo il tuo consiglio la miglior vendetta è vivere bene Armando sei un mito mito un grande applauso breve ad Armando che si è fatto la quarantena 15 giorni in Thailandia e adesso è libero e bello e si sta a fare un bel bagno alla faccia di questi che ci vogliono male bravo la miglior vendetta è vivere bene nel frattempo Draghi è parla sui vaccini e Vespi ci spiega che ci dice due cose 500 mila vaccini al giorno vuol dire 15 milioni in un mese ci auguriamo che ciò avvenga ma poi dice che ferà nuovo deficit cioè il grande tutore dei conti pubblici l'uomo della banca centrale europea l'ex direttore del tesoro il guardiano dei conti pubblici che mette un ragioniere a fare il ministero dell'economia beh dice più deficit ragazzi più deficit è una buona notizia se è fatta da Draghi spero ma è anche una cattiva notizia vuol dire che la situazione economica è un disastro e Draghi se ne reso conto sui vaccini beh è straordinario eh quello che è successo ieri perché ieri c'è stata una fiammata e tutti i giornali a partire da Repubblica hanno parlato inchiesta penale eh AstraZeneca uccide i militari senza nessuna prova senza nessuna prova che ci sia una relazione tra il vaccino e quelle morti ma ovviamente alimentando i novax che per quanto mi riguarda possono sempre parlare ma i borghesini che facevano tutti i fenomeni i burioncini che dicono ehm eh dobbiamo vaccinarci eccetera alla fine poi dopo eh che cosa fanno? I drammatizzano perché in un clima di terrore si deve rendere terroristico il sistema di questa malattia e terroristica le due morti eh su ehm AstraZeneca io vi vorrei insieme a me raccontare quello che potrebbe succedere se io diventassi presidente del mondo se diventassi presidente del mondo verrei in Italia e obbligherei un milione di italiani ascoltatemi bene a ma eh a mangiarsi un lecca lecca bene un milione di italiani prendo i lecca lecca più buoni che ci siano non so quali sono i più buoni che ci siano prendi lecca lecca prendi un milione di persone e gli fai leccare il lecca lecca glielo fai fare tre volte alla settimana quindi tre volte alla settimana un milione italiani potranno leccare lecca lecca voi dite sei impazzito no non sono impazzito poi dopo un mese prendo quel milione italiani e vedo quanto quanti di questi italiani sono morti per trombosi e probabilmente ci sarà qualcuno purtroppo che avrà avuto una trombosi allora i lecca lecca uccidono finalmente potrò dire la verità se provo a far utilizzare a un milione di italiani lecca lecca e poi controllo lo stesso milione di persone dopo un mese forse ci saranno tre quattro cinque dieci morti in quei leccatori di lecca lecca che ho dato io e quindi lecca lecca uccidono e questa secondo voi la logica della correlazione tra vaccini e morte perché questo è il punto fondamentale perché però il lecca lecca non abbiamo pregiudizio nei confronti del vaccino abbiamo pregiudizio big pharma tutte le cose che la sinistra ci ha sempre raccontato e che sono trasversalmente oggi da destra e sinistra il nostro incubo quotidiano le correlazioni sono una roba che gli economisti conoscono bene ma probabilmente non tutti gli italiani conoscono altrettanto bene fare una correlazione tra una morte e la somministrazione di un vaccino è soltanto la grande paura ma è la stessa grande paura per cui tutti i giornali hanno raccontato di Fukushima il caso delle dell'impianto nucleare che vi ricorderete eh 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 si ruppe eh in seguito a uno tsunami beh e tutti diciamo ah l'eredità nucleare financo il mio giornale eh ha parlato l'eredità nucleare lì sono morte ventimila persone ma per lo tsunami non per il nucleare per lo tsunami eppure noi abbiamo queste paure quindi la paura del vaccino e la paura della malattia che invece sulla quale fanno leva i nostri lockdown e lo stesso filone non cambia nucleare eh malattia eh lecca lecca vaccini sono tutti quanti eh degli agitatori delle nostre paure uno solo di questi è un intruso il lecca lecca perché noi lo amiamo nel frattempo poi lo zucchero forse fa male eh qualcuno ci potrebbe c'era un New Yorker c'era un pezzo bellissimo su New Yorker di un paio di settimane fa in cui spiegava come ehm stavano tutte le aziende cercando di ridurre lo zucchero all'interno dei loro prodotti ma alla fine hanno capito che tutte le alternative allo zucchero sono peggio dello zucchero e l'unica vera alternativa dello zucchero e che lo zucchero mettendo neanche di meno si senta di più si squagli meglio beh pezzo di New York devo dire favoloso ma nel duemila e quattordici sui vaccini ci ricorda Capone in un bel pezzo cosa era successo all'epoca erano i vaccini antinfluenzali e anche all'epoca avevano fatto una grande campagna perché c'erano stati dei morti per questi vaccini antinfluenzali non erano morti per i vaccini antinfluenzati erano morti dopo la somministrazione dei vaccini antinfluenzali stesso metodo lecca lecca successe un casino ci fu una grande campagna di tutti i giornali contro i bifarma contro i vaccini e che cosa successe ci furono più morti di influenza perché vi segnalo che poi in Italia ci sono almeno diecimila morti di influenza ogni anno però quei diecimila morti di influenza sono un di cui di quelli del covid ma di quale noi non discutiamo e seconda questione fondamentale è basta dire i vaccini e chiusure e poi ci sono altri temi divertenti intanto Letta accetta di fare il segretario del partito democratico e anche chissene oggi sono paginate su Letta che fa il segretario domani arriverà commenti eccetera mi sembra un modo di stare da scritto russo sul sito nicolaporro punto it un modo di guardare la realtà secondo gli occhiali dei formati della politica che in realtà fa molto poco poi c'è Brunetta c'è Brunetta per carità bisogna sempre avere massimo rispetto di Brunetta con Brunetta io ho parlato anche bene in una zuppa di un paio di settimane fa però Brunetta è uno di quelli che non accetta critiche cioè il funziona così questo governo ha il novanta per cento dei consensi parlamentari ha il novanta nove per cento come sempre dei consensi giornalistici ma questo vale nei confronti dell'Oden vale nei confronti di Conte vale nei confronti di Draghi però se qualcuno fa col ditino così a Brunetta e a questo governo evidentemente il primo eh che si è seccato dice scusa centosette euro di aumento agli statali io siamo certi che come scrivi oggi sul foglio caro professor Brunetta sono dati perché avete fatto una riforma della contrattazione per cui ci saranno dati soltanto sul merito saranno dati soltanto se questi riusciranno a raggiungere degli obiettivi come dice giustamente il professor Brunetta misurabili siamo sicuri di tutto quello che che lei sta dicendo caro professor Brunetta e siamo anche sicuri cosa che avevo già detto un paio di giorni fa bastava ascoltare le cose che voglio dire un po' più approfonditamente che noi ci fidiamo più di Brunetta rispetto alle dadone o alle catalfo e del tutto evidente o anche alle buongiorno ma il punto è un altro il punto è un altro che centosette euro al mese per tredici mensilità correggetemi se sbaglio sono mille duecento euro in più all'anno mille duecento euro in più all'anno per tre milioni e mezzo di sono un botto di risorse nostre 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 dei cittadini che in questo momento non stanno lavorando non stanno producendo non stanno fatturando sono in cassa integrazione spesso non gli sono arrivati allora caro professor Brunetta prima di arrabbiarsi con quelli che si permettono di fare una critica sul tempismo di questi soldi che è vero che erano stanziati prima ma in realtà vengono usati oggi cioè non so come spiegare è la procedura del marchese del grillo io non li caccio tu non li pi se lo stato non li avesse cacciati loro non li avrebbero presi giusto sbagliato che sia certamente questa riforma in dieci giorni che ha fatto Brunetta con Landini perché affermato bello contento anche Landini sarà epocale anche se io queste cose di misurare il merito e misurare gli obiettivi l'ho già sentita nelle ultime quattro riforme della pubblica amministrazione poi evidentemente il professor Brunetta in dieci giorni è riuscito a fare la riforma migliore del mondo abbiamo pazienza ma l'ha fuori l'ha fuori forse anche un po' della constituency che votava centrodestra beh pensa umilmente che ci sia un tema per tutto il resto del mondo produttivo che in questi mesi ha lavorato non ha fatto lo smart working o se l'ha fatto l'ha fatto davvero e che c'ha problema vuol dire questo che tutti i dipendenti pubblici sono dei cialtroni no non vuol dire per niente questo vuol dire che forse abbiamo un po' un'esperienza della nagarafe di Roma cosa a cui io invito il professore Brunetta di andare io invito il professore Brunetta prima di criticare Porro i siti e tutti gli altri di andare a provare a fare la carta di identità alla anagrafe di Roma poi dopo ne parliamo chiunque provi ad andare all'anagrafe di Roma chiunque provi oggi a fare una certificazione edilizia chiunque provi ad avere a che fare con qualche cosa che non sia normato né normale né con la pubblica amministrazione poi dopo parli con Brunetta o Brunetta stesso ci vada ci vada lui o ci mandi il suo addetto stampa che magari è meno riconoscibile il professor Brunetta nel frattempo grandissimo pezzo di Guzzanti su Forattini compie 90 anni Forattini ha il difetto di fare satira liberale e quindi giustamente Guzzanti oggi lo ricorda sul giornale pezzo da leggere perché Forattini non solo è un grandissimo ma è uno dei pochi fuori dal coro nella satira perché se la satira per esempio prendeva di mira i Brunetta di turno cioè quelli non omologati alla sinistra tutti zitti e muti se la satira invece prendeva di mira la sinistra o quanto se la prendevano pensate a D'Alema e alle battute che faceva Forattini su D'Alema per cui fu querelato nel frattempo Amazon che ha sempre uno spirito diciamo brunettiano anticonformista decide e ne parla oggi Gervasoni sul giornale di non pubblicare i libri che a suo insindacabile giudizio non tengono in giusta considerazione il gender anzi si dice gender complimenti la libertà di stampa e la libertà ovviamente è un distributore Amazon bisogna cercare di disintermediarlo il più possibile buongiorno da Taranto anche a te eh economia super bonus secondo il sole ventiquattro ore ce l'avremo fino al duemila e ventitré perché nel recovery plan sono usciti i quattrini per far sì che queste ristrutturazioni delizie al centodeci percetto siano possibili a ehm fino al duemila e tre eh provate a chiedere esenzioni al C Milano condipendenti in lavoro agilo dice Raffaella Kuhlman no ma figurati eh ti ho beccato Vincenzo vediamo che altro c'era l'anagrafi di Roma ci dissero asignò c'erano i nostri tempi c'erano i nostri tempi eh io l'ho fatta in trenta minuti dice Ada Paolucci io spero eh che non sia la carta di identità perché sennò sarebbe uno smentita clamorosa di quella inefficienza che noi abbiamo testimonato più volte ciao Nicola buon sabato anche a te ci ricomincio ancora ma Roma è il popolo romano ma quando ci ribelliamo la dittura del governo eh poche balle quelli del CTS vogliono vederci chiusi in casa fino al duemila e ventitré ma tanto ho preso un apportamento per la carta d'entità a febbraio lontano dal mio comune non c'erano posti ci vogliono mesi pensa come lavorano veloci dice Ornella di Mattia ciao Susanna eh effettivamente siamo un popolo di mistificatori va bene andiamo avanti giusta la critica brunetta non esiste denaro pubblico esiste solo denaro dei contribuenti bravo Matteo e questi sarebbero i liberali ma sai io non è che voglio criticare in assoluto cioè i se uno eh lavora ci sono tante persone che lavorano per esempio per un medico che ha lavorato ventiquattro ore al giorno in questo periodo forse cento euro sono anche pochi anzi sicuramente sono anche pochi il punto fondamentale che sono anche pochi per una professoressa una maestra che si è fatta un mazzo così facendosi cambiandosi tutta la sua didattica in distanza cercando di lavorare facendo i compiti e rendendosi tecnologica sono anche pochi per loro ma basta andare in un tribunale in una scuola e in un'amministrazione pubblica vedete che la minoranza dei dipendenti pubblici che si fanno il mazzo di cui stiamo parlando e quella minoranza dovrebbe essere strapagata infine Roma straordinario ottiene i soldi per la teleferica e finalmente la raggi ottiene i soldi per fare la teleferica che parte da Battistini e arriva a Casalotti Boccea finalmente Roma c'ha la sua funicula e poi Roma geniale Enrico Paoli perché l'ultima cosa che vi voglio raccontare è geniale domenica arriva la zona rossa a Roma e questi cazzoni io non domenica ecologica questi dovrebbero essere rinchiusi non in un mamicopio ma in Parlamento perché si troverebbero tra i loro simili si potrebbero dire tra di loro quanto sono bravi e quanto sono belli un po' come un po' anche noi ordine dei giornalisti che ci siamo mi sembra di aver letto da qualche parte che vogliamo a dare una precedenza ai giornalisti nella vaccinazione io dico ma se i politici sono scollegati la realtà va bene ma se i giornalisti sono scollegati della realtà cosa che parese evidente leggendo il giornale unico del virus beh le cose allora vanno davvero male e la funi che c'è scritto qua ma è fatta apposta per portare la domenica alla gente può essere Beppe Selvaggiulo ciao non ci credo è così Beppe non è la prima volta che ci sono le domeniche rosse Mario Rossi anche a Bari ed eravamo gialli fantastico porro venduto e della destra Marina Matteo insomma se mi pagano bene basta dad i ragazzi non possono più stare davvero tutto il giorno devono socializzare è quello che io cerco di urlare da settimane da mo che so scollegati i giornalisti dice Angelo Melis e oggi pomeriggio vado a giocare nel parco con i miei amici e non mi cambia molto se torniamo in zona rossa dato che sono già in dad dice Lorenzo Carbonese purtroppo penso che la zona rossa sia ancora peggio un caro saluto Andrino i prof hanno stipendio fisso a fine mese i ragazzi sono depressi dice Vanessa porto Ursula a root vabbè Luca non è commentabile troppe vulgarità basta la mia mente la psiche non ne possono più e noi non prendiamo un euro da mesi e fanno gli aumenti e chi lo sta prendendo sicuro anche se a casa dice Marmara Montecchio e meglio olio rasciatano Gabriele Cargano e con questo io concludo l'ho trovato e direi che su questa ultima considerazione che mi trova totalmente favorevole direi che noi ci vediamo domani ciao grazie a tutti